Le notti magiche, il cielo sopra Berlino, l'urlo di Tardelli. I ricordi dei 120 anni della Nazionale Italiana di Calcio, abitualmente custoditi in un apposito museo a Coverciano, fanno tappa a Belluno. In una mostra allestita a Palazzo Crepadona, fino a giovedì sarà possibile vedere alcuni cimeli degli azzurri. In mostra le quattro colpe del mondo, la Coppa Europa, le maglie degli idoli di generazioni di tifosi, da Facchetti a Buffon, passando per Paolo Rossi e Franco Baresi, Scarpini e Gagliardetti. L'esposizione sta facendo tappa in tutte le città capoluogo d'Italia e la sua presenza a Belluno in questi giorni ha dato modo anche di allargare lo sguardo. Stamattina abbiamo incontrato le società del comune di Belluno per un confronto legato a quello che è l'andamento, il movimento calcistico bellunese con delle buone proposte anche per lavorare insieme per il futuro. L'ingresso alla mostra è gratuito e l'esposizione sarà visitabile dalle 10 alle 19 nelle giornate di domenica e giovedì e nelle fasce orarie 10, 12 e 30 e 15, 18 e 30, lunedì, martedì e mercoledì.